presentiamo uno spettacolo un omaggio a maria callas dal titolo la traviata maria callas il mito lo spettacolo procede immaginando che negli ultimi istanti della vita della divina maria callas il grande soprano sovrappone la sua vita a quella di violetta valerie il personaggio della traviata che tanto diciamo ha segnato la carriera di maria callas grazie anche alle repliche di successo del 55 alla scala con la regia di lucino viscovi quindi si immagina che per delle analogie del narrativo entrambe abbandonate dall'amore entrambe sole nella casa di parigi in compagnia di una cameriera questa sovrapposizione delle storie cioè la vita personale della grande diva e il narrativo il soggetto della traviata di giuseppe verdi hanno scaturito l'idea di una sovrapposizione di immagini in un sogno onirico dovuto forse anche all'effetto dei farmaci che utilizzava callas per raggiungere una tranquillità appunto negli ultimi momenti della sua vita i costumi sono ricostruiti da preziosi immagini fotografiche ritraggono maria callas sia appunto nella nella scena i suoi abiti del grande successo che nella sua vita diciamo borghese e lo spettacolo è interpretato dai solisti primi ballini e corpo di ballo del balletto del sud della compagnia che delico dal 95 abbiamo una nuova edizione realizzata in coproduzione con il festival d'autunno di catanzaro dove appunto lo spettacolo debuta il 28 di ottobre e vi aspettiamo grazie a tutti